buon di fioi buon di tose o buona sera fioi buona sera tose dipende da che ora guarda resto video come andiamo spero ben ciao a tutti io sono stene da treviso con furore e con ben ritrovati su stene channel e bentornati a casa stene grazie di cuore a tutti e tutte nessuno escluso ormai stene channel sta raggiungendo 14.400 iscritti manca veramente n'antichia e per questo vi devo veramente dimostrare tutta la mia gratitudine con questo grazie perché ve lo meritate con un applauso annesso ovviamente sempre per merito vostro mi hanno sbloccato le storie su youtube e quindi mi potete seguire tranquillamente anche lì questo video lo condividerò sul gruppo serie chat girone b ciao marco ocra ricco morselli tutti i ragazzi e le ragazze della community grigliatori e mi raccomando un bel like sulla pagina la tanna giallo blu di enrico morselli che compie gli anni quindi tanti auguri alla tanna giallo blu compie due anni complimenti ad enrico e a tutto il suo staff e mi raccomando anche un like sulla pagina di serie chat girone b pubblica e privata si è appena conclusa la partita tra padova e fermana una gara estremamente importante per quel che concerne ovviamente il girone b della serie c e quindi questo video lo condividerà ovviamente su serie chat girone b che cosa dire allora una vittoria meritata per quel che concerne la squadra di mister mandolini però un po troppa apprezzione c'è stata secondo me sul fatto che una fermana abbastanza incerottata si è comunque presentata all'euganeo senza particolari timori reverenziali si è giocata la sua partita viso aperto e nonostante appunto ci fossero davanti mostri sacri per quel che concerne la categoria perché veramente ho visto un tasso tecnico altissimo all'interno del contesto bianco scudato ebbene i marchigiani comunque hanno rischiato di portare a casa il pareggio e forse questo è il neo principale per quel che riguarda la prestazione del padova un padova che subito ha fatto vedere che insomma voleva portare a casa questa vittoria agganciare sul tirol in testa la classifica c'è riuscito è passato in vantaggio con un'autentica perla di chiricò mai migliore acquisto secondo me in questo momento poteva fare il padova un padova che si può addirittura permettere una giornata no dell'altro bomber si se che comunque ha disputato 90 minuti discreti però con un furetto in campo come il buon chiricò ripeto si se può anche tra virgolette giocare con il freno a mano tirato in più tutto il contesto insomma della squadra bianco scudata non lo scopro di certo io adesso c'è stato anche un palo di germano però però anche dei blackout difensivi che sono tipici della squadra di mister mandorlini c'è stata un'occasione di mordini alla fine della prima frazione che si alzava la testa e serviva neglia sulla destra probabilmente qui stavamo parlando di un pari della fermana poi magari le cose in corso d'opera sarebbero cambiate perché era la fine del primo tempo però insomma se il padova si trova davanti una squadra così diciamo un po in difficoltà e concede queste opportunità e fortuna vuole per i padovani che gli ospiti non sono riusciti a concretizzarle perché c'è anche stata un'importantissima occasione nella ripresa cornellia sta di fatto che ribadisco se si trovano davanti una compagine un pochino più accorta con degli elementi con un tasso tecnico un valore maggiore rispetto ai giocatori della fermana e lo dico con il dovuto rispetto credo che insomma le cose nel corso dei 90 minuti potevano cambiare ribadisco c'è stata a mio avviso un po troppa apprezzione però bisogna anche dar merito alla squadra dei mandolini che oggettivamente il migliore in campo da una sponda dalla sponda patavina è stato sicuramente cosimo chiricò mentre dall'altra parte chapeau al portiere ginestra sempre pronto ed abile ad intervenire nei vari tentativi da parte dei biancoscudati nulla ha potuto di fronte alla gemma di chiricò che vi invito andare a vedere padova che deve anche un attimino limare le conclusioni insomma verso la porta avversaria perché poi c'è stato un oggettivo ed incredibile errore di firenze proprio nei minuti di recupero a porta spalancata vuota senza portiere ginestra che si era gettato in avanti per cogliere il pari non è riuscito a inquadrare la porta quindi secondo il mio punto di vista questi sono diciamo i nei della gara del padova dove ovviamente mister mandorlini dovrà lavorare è chiaro comunque che era importantissimo portare a casa la vittoria i biancoscudati ci sono riusciti per quest'oggi sono lì in testa alla classifica insieme a su tirol per il momento perché gli altoattesini devono chiaramente giocare la loro sfida contro il gubbio sempre in attesa poi del 10 di febbraio giorno in cui il padova recupererà la sfida con il carpi e quindi staremo a vedere se poi la squadra di ronaldo e compagni sarà lì da sola in testa alla graduatoria o ci saranno invece altre modifiche per quella che riguarda la graduatoria all'interno della classifica del campionato comunque la giornata di quest'oggi appena cominciata il launch match come si suol dire è finito così quindi padova 1 fermana 0 grazie al gol di chirico colgo l'occasione visto che parlo della fermana di fare gli auguri al mio amico marco rossetti tifosissimo dei giallo blu e io mi congedo qui in attesa di vedere che cosa accadrà quest'oggi nel corso di questa sicuramente entusiasmante giornata di campionato bene ragazzi io mi congedo qui vi ringrazio della vostra cortesa attenzione e come sempre cosa dirve che vi voglio bene stiamo bene se vedremo al prossimo video o la prossima puntata di casa stene ciao a tutti